A una trentina di chilometri da Osh c'è Simor, un paesino di poco più di 600 abitanti, che ha questa bella chiesa fortificata, che è stata costruita tra il 1292 e il 1309. Dunque quanto proprio allora il gotico stava facendo ai primi passi. La pianta di questa chiesa è a navatta unica e provvista di un grande transetto. Termina con un'abside piatta, costruita interamente in mattoni, compare davanti a noi la navata. Si intravede al centro la cupola ed in fondo il coro in legno. Questa invece è una panoramica orizzontale che parte dal transetto nord, passa per il coro e arriva al transetto sud. Ora che ci sono proprio sotto, ecco la cupola ottagonale su cui si innesta all'esterno la torre quadrata. Nell'Ottocento la chiesa versava in pessime condizioni. Il restauro era stato affidato a Violele Duke, che aveva enfatizzato l'aspetto guerriero fornendo di Merli la torre. Ma all'interno quel che interessa di più sono le vetrate, gli affreschi e gli stalli del coro. Queste sono le vetrate dell'abside, vengono realizzate a partire dal XIV secolo ed è possibile che abbiano subito gli influssi della vicina cattedrale di Osce. Questa vetrata è dedicata a San Serat ed è l'inizio del XVI secolo. San Serat aveva postato il cristianessimo a Simor ed è tuttora il patrono del paese. Con questa si concludono le nove vetrate delle chiese. Su un laterale del coro, anche qui, c'è il peccato originario. Gran parte dei 38 stalli, che sono in uno stile gotico flamboyant molto leggero, sono un dono del vescovo Jean Marr che è nato qui. Oggi non rimane che la chiesa gotica, ma la storia è più lunga. I primi documenti parlano di una bezzia benedettina dall'817, anche se tradizione o leggenda la voglielo fondata dal re Clodoveo. Intanto dietro l'altare, questa è la controfacciata. E questi sono gli affreschi scoperti solo nel secolo scorso. La bezzia era diventata ricca e potente e grazie alle tante laute donazioni ricevute aveva potuto fare il passo ulteriore, costruire una nuova chiesa nello stile dell'epoca.